E' finita la vacanza alle Maldive per Ernst Ramazzotti e la figlia Aurora. Aurora ci spiega anche come piegare i vestiti e metterli in valigia. Cosa c'hanno? I buse! Sai che 40 anni a Milano ancora non ho imparato? I buse, i lost buse. Ciao! Guarda che io lo sapevo che vi sarebbe piaciuto questo metodo e allora ve lo dico ma non posso prendermi i crediti perché l'ho visto su un video di TikTok e non mi ricordo neanche che video fosse. In sostanza si arrotolano i vestiti tutti quelli che si possono arrotolare non quelli rigidi e devo dire che mi sono trovata bene e volevo farvelo vedere ma mi sono dimenticato e ormai ho chiuso la valigia e non la riaprirò mai più. Oltre a occupare meno spazio aiuta anche a non farli sofficiare incredibilmente. Buon viaggio a tutte e due e grazie Aurora per averci spiegato come si mettono i vestiti in valigia.